E ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale, io sono Stefania e come vi dico ogni volta qui e su tutti gli altri social mi trovate sotto il nome di LoveFersMell. Vi lascio in info box tutte le informazioni necessarie, se vi va di seguirmi appunto anche su Instagram, se vi fa piacere, su TikTok, io sono molto attiva anche lì. Quindi stiamo andando in dirittura delle 2000 persone, a me pare impossibile e non posso fare altro che ringraziarvi. Ringrazio indistintamente tutti quanti, però ringrazio specialmente chi mi ha dato fiducia ed è con me fin dall'inizio, tutte le persone che mi scrivono e mi sostengono perché per me sono proprio una sorta di motore propulsore che mi induce ad andare avanti nonostante anche ogni tanto ci sia qualche piccolo intoppo, ma niente di insomma insuperabile. Detto questo mi sono data una missione questa volta, ovvero trovare dei profumi delle acque corpo che fossero veramente low cost. Mi sono data come budget 10 euro, perciò ho controllato che cosa avevo nella mia collezione e ve lo presento oggi. Parto proprio con la prima fragranza ed è lui, un profumo stupendo Fico Pesca di Luciano Soprani. È un profumo che ha note di pesca, la foglia di fico, il bergamotto in apertura, poi abbiamo il fico stesso, la violetta, il gelsomino, il ciclamino, il muschio in base, il sandalo e il legno di cedro. È un profumo veramente amabile, dal grandissimo valore e dal prezzo veramente piccolo. Il 50 ml costa meno di 10 euro, questo deve essere un 80 se non mi sbaglio, però anche questo non costa molto di più. Lo trovate in offerta tante volte sui 13-14 euro nelle varie farmacie online. Bene, questo profumo apre con questa pesca veramente bellissima, tonda, matura, briosa, bella polposa, però è una pesca non troppo dolce perché si sente sin da subito il profumo della foglia del fico che in qualche modo va a smorzarmi la dolcezza della pesca stessa. È un profumo molto arioso, è un profumo molto morbido e anche proprio armonioso, è leggero. Il dry down di questo profumo è molto pulito, è un profumo infatti sul fondo muschiato, però sempre con questo bel sentore di pesca al fico. È bellissimo, costa poco e vale tanto. Altra fragranza che io amo particolarmente è questa. Ve ne ho parlato, queste fragranze le trovate da... Oh signore, mi sfugge il nome in questo momento, vi giuro mi sfugge il nome. Sono comunque di Olfactory Lab, sono fragranze che costano 7,90 euro e ci sono un sacco di profumazioni. Sono ancora qui che penso dove le trovo, però casomai ve lo lascio scritto in info box perché mi sfugge il nome al momento. Questa è una fragranza che io amo particolarmente, che ho scoperto grazie a Stefania Parvana, vi lascio qui sotto perché è stata lei penso una delle prime a parlarne. Questa si chiama Pampelmousse. Ebbene, cioè ragazzi, se vi piacciono i profumi al Pampelmo, questo è bellissimo, costa nulla e non è per niente sintetico. Questo profumo tra l'altro è completamente vegano, dunque se amate, anche se avete sposato questa filosofia di vita, sappiate che è puramente prodotto in Italia, è completamente vegano e sono 50 ml di profumo. È una fragranza che porta note appunto di Pampelmo, di limone, abbiamo rosa, peonia all'interno, vaniglia e musk. Apre tanto aromatico, molto molto citrico. Adesso l'erogatore è quello che è, poverino, infatti eroga un po' male. Ecco, adesso si sta riprendendo. È citrico, è frizzantino, è veramente energizzante e rivigorente. Ci sono appunto queste note floreali che a mio naso sono totalmente impercettibili. Quello che sento è il profumo del Pampelmo. È come quando andate, perché ne so, in supermercato, prendete il Pampelmo e sentite già dalla buccia il profumo del frutto stesso. È veramente carinissimo e come dicevo prima ci sono tantissime profumazioni, infatti ne ho anche altre, però questa è la mia preferita anche perché dura tantissimo, costa poco e dura tantissimo. Altra fragranza che mi piace tantissima, però questa ragazzi è una Body Mist, sono 200 ml e è di Burani. Questa si chiama Silk Flower. Questa note di testa che sono dolci e succose, appunto, che si sposano con questi fiori che sono così inebrianti, molto sensuali. Abbiamo infatti rosa, ilangilang, violetta. Abbiamo anche note ozonate. È un profumo che porta anche al suo interno delle note caramellate. Infatti è un profumo dolce, piacevolmente dolce. Sentite proprio tutta questa potenza floreale che è in qualche modo caramellata, che diventa molto molto golosa. Vi giuro è piacevolissimo. Ovviamente è una Body Mist, la durata è meno importante rispetto a quella che può avere uno de parfum o uno de toilette. Però è veramente carinissimo e se la portate come la porto io, adesso vi spiego che cosa faccio, vi dura. Quando io ho queste Body Mist, amo molto spesso associarle a degli oli profumati. Questo è in assoluto il mio preferito perché è una vaniglia. Ve ne ho già parlato. Questo si chiama Golden Sand ed è di Al-Riab. Ha note di caramello, per l'appunto di vaniglia, di agarud e anche note floreali. I pack sono bruttissimi, però vi assicuro che funzionano alla grande. Questo profumo in olio è pazzesco perché vi fa da base e per amplificare il profumo di altre fraganze, diciamo, leggermente più deboli, tipo le Body Mist, vi mettete questo che è una vaniglia golosa e sensualissima. È goduriosa quasi, è quasi caramello filante su pelle con queste belle note legnose, calde, anche molto ambrate. Questa vaniglia vi aiuta tantissimo a far durare profumi che da soli non sono proprio molto performanti. Questi olietti sono ottimi. Ovviamente io vado di, diciamo, come si può dire, ne uso tantissimo, me ne butto addosso tantissimo. Cioè, andrebbero messi sui punti caldi. Io invece proprio mi spalmo, mi ungo letteralmente. Prima di essere interrotta, come al solito, dal gatto, ma penso che ormai siate abituati perché, cioè, fa il disastro, non lo so, è ingestibile questo gatto. Stavo dicendovi che un altro olietto che amo particolarmente di Alaramein è Macca. Sono passata dall'odiarlo all'amarlo. Quello che non mi piace, però, è sempre questa pallina, questo roll che eroga malissimo il prodotto. Però il prodotto, nel frattempo, non lo so, è cambiato, è maturato, non ne ho la più pallida idea, ma adesso è utilissimo e mi è super super utile. È questo, un olietto che contiene al suo interno note di fragola. Abbiamo resine, abbiamo ambra, abbiamo vaniglia, ma fondamentalmente è un profumo che ricorda le plastiche fragolose delle bambole. Se siete amanti di profumi come Mucallà di Montal, sappiate che gli assomiglia veramente molto. Serve forse un po' di tempo rispetto all'altro per capirlo, perché non è un profumo semplice, immediato. Qui è proprio un sentore molto molto strutturato, cioè si sente proprio tutta la parte fruttata della fragola rossa, ma anche tutta la parte più ambrata, più resinosa, più calda, proprio plasticosa. E' un profumo, un olio, un profumo in olio diverso, ma se conoscete Mucallà sicuramente questo vi piacerà tanto e anche questo è un'ottima base, specie per i profumi fruttati, gli aiuta tanto, tira fuori proprio la parte della frutta secondo me. Per me è utilissimo. Altra fragranza che io ritengo proprio super super carina, infatti sono alla fine anche di questa, sono le acque profumate di Nani. Questa è la classica evento del sud, costano nulla, sono tra l'altro senza parabeni, contengono aloe vera, dunque sono anche nutrienti. Questa sa letteralmente di zucchero filato, sono proprio agli sgoccioli, penso che stasera post doccia la finirò. Anche questa la trovate in mille più profumazioni, costa sui 3 euro, cioè poco o nulla ed è proprio carinissima, quasi una coccola pre nanna questa. Altra fragranza che mi piace tantissimo, qui chiunque ami il profumo della rosa non può non amare questo profumo di rasasi che è safina. Ebbene questa è la rosa, il profumo di rosa più pulito e più saponoso che io posso conoscere. Mi pare proprio di essere a casa, come piace dire a me, di una nonna, della nonna, di andare in bagno, di prendere la saponetta, di lavarvi le mani. La saponetta è alla rosa e il profumo che sentite è questo, un profumo pulito, familiare, un profumo semplice proprio, il profumo della rosa così com'è e di sapone alla rosa. È un profumo che costa poco o nulla, ce n'è tantissimo, questo costa sui 9 euro, 10 euro, lo trovate molto spesso in offerta a suonottino e vale ogni singolo centesimo se non di più. Questo è safina di rasasi. Poi altri profumi e qui, cioè non ci possiamo sbagliare perché adesso ragazzi non ci possiamo veramente sbagliare con i profumi di tesori d'oriente. Io ho preso karma che è la novità appunto di quest'estate, ho già voglia di caldo perché io sono già stufa di questo tempo. Limone, bergamotto, zagara, note acquatiche, tanto frangipane, ylang ylang. È un bel profumo gioioso che richiama quello che ha il sentore delle creme solari. C'è tanto cocco anche qui dentro. È veramente un profumo molto cremoso, avvolgente, ti fa venire in mente la spiaggia, il lettino, la sabbia, il profumo del mare. È decisamente amabile. Io non ho molti tesori d'oriente ma karma è sicuramente uno dei miei preferiti. Chiudo questa carrellata di profumi con Queen Plum Rose di Zara. Questi profumini, se avete pazienza, soprattutto nel periodo dei saldi, li trovate all'incirca al prezzo di 8 euro. Se no comunque non costano molto di più perché costano sui 12,50 euro. Qui abbiamo note di sabbia, di rosa, note boschive. Queste sono quelle riportate su Fragrantica. Quelle di Zara sono diverse. Per me questa sostanzialmente è una rosa delicata, gentile e a man mano che si asciuga si caramella. Io sento tanto quello che è il rimando tipo a notte. Mi sembrano, cioè forse il fatto che ci siano segnate delle note di sabbia mi ha in qualche modo influenzato. Però mi diventa quasi una rosa acquatica. È veramente molto delicata, vellutata. E poi ci sono questi simpatici sentori del frangipane. È un profumo da tutti i giorni, semplice, portabilissimo in ogni occasione. Anche nelle borsette perché no, perché questi non pesano praticamente nulla. Sono 30 ml ed è veramente carinissimo. Ragazzi, io me ne ho mostrati un bel po' oggi. Spero che il video sia stato di vostro gradimento e vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine. A presto.